L'amministrazione comunale di Loscigno, retta dal sindaco Pino Palmieri, nei giorni scorsi ha dato il via ad una nuova ed importante iniziativa. Nuovi cestini destinati alla raccolta rifiuti in diversi angoli del paese. Sono state acquistate anche quattro fototrappole per la lotta contro l'abbandono dei rifiuti. A dichiararlo è stato proprio il sindaco sul suo profilo Facebook mostrando le foto. Il comune inoltre ha pensato anche agli amici a quattro zampe posizionando appositi cestini con il simbolo di un osso che consentiranno la raccolta delle deiezioni canine anche per chi sarà sprovvisto di attrezzi o sacchetti idonei. Una scelta dettata di sicuro per ragioni di buonsenso oltre che di gene. Raccogliere le deiezioni canine oltretutto è un obbligo imposto dalla legge oltre che un dovere civico ma purtroppo esistono ancora molti proprietari che sembrano disinteressati e continuano a non raccogliere gli escrementi del proprio cane. Una piccola realtà come Roscigno ha lanciato un esempio che potrà essere accolto e apprezzato anche da tanti altri enti pubblici poiché è fondamentale rispettare le regole del vivere comune, impegnarsi a mantenere strade, marciapiedi ed aree decorose e soprattutto transitabili.